Domani pomeriggio al Parco della Scienza di Teramo, il secondo consiglio provinciale dell'era Catarra, nella quale il neopresidente presenterà le linee programmatiche dell'amministrazione. Un documento che è stato già letto dalle opposizioni, le quali ne hanno ricavato un giudizio fortemente critico. Un documento che abbiamo letto, analizzato, è un documento assolutamente generico, inadeguato, che non contiene impegni precisi, soprattutto impegni sufficientemente chiari per la prima fase del mandato amministrativo. Un documento che non è emendabile, così i quattro capigruppo di minoranza, D'Agostino, Nori, Di Febo e Sacco, hanno firmato un ordine del giorno da portare al voto nella seduta di domani, già sottoposta all'attenzione del Presidente del Consiglio, e col quale si richiede l'impegno della provincia in dieci punti per un orizzonte temporale di circa sei mesi. Tra questi completare il percorso per definire il piano straordinario di messa in sicurezza del territorio, alla luce del sisma e delle alluvioni dello scorso mese di aprile. La richiesta alla Regione di ripristinare i fondi per l'attuazione dei PIT, distolti per finanziare il cratere aquilano. L'emanazione dei bandi per le politiche del lavoro finanziati dal POR, Fondo Sociale Europeo. Interventi strategici su viabilità, Pedemontana-Abruzzo-Marche e varianti a SS 259-150. Politiche sociali, culturali ed energetiche. E particolare attenzione sulla concertazione con la Regione, sulle priorità per i fondi FAS, Fondo Aree Sottosviluppate, per la programmazione 2007-2013. Sono di gran lunga le risorse più importanti per lo sviluppo del territorio. Sono fondi nazionali che potranno essere utilizzati per le politiche di sviluppo. Eravamo già molto avanti nell'individuare i progetti strategici, infrastrutturali e di sostegno allo sviluppo nel nostro territorio. Il nostro documento li indica con grande chiarezza. Io credo che quel programma possa essere definitivamente concertato con la Regione Abruzzo perché si possa procedere alla fase attuativa di interventi che sono di fondamentale importanza. Dal distretto agroalimentare di qualità, al recupero e alla valorizzazione dei borghi, alle opere infrastrutturali che sono appunto incluse nel programma FAS.